Dopo il sindaco di Campobello di Mazzara, Giuseppe Castiglione, anche quello di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo e l'assessore all'ambiente Vincenzo Abate sollevano il problema dell'impossibilità di conferimento dei rifiuti organici che a partire da giovedì dovrebbe normalizzarsi. Purtroppo al momento permane la chiusura degli impianti siciliani di compostaggio che non ricevono più la parte organica dei rifiuti, fanno sapere Rizzo e Abate. Ormai sono circa 150 i comuni siciliani che non raccolgono l'umido e sono coinvolti nell'emergenza di rifiuti dopo la chiusura delle principali strutture come quelle dove conferisce il nostro comune l'araco di Catania che ha comunicato che non riaprirà fino a giovedì mentre non accetta più l'umido neanche ecos di termini emerese. Ribadiamo che la raccolta dell'organico è ferma in mezzo a Sicilia e ci scusiamo per il disagio non dipendente dalla nostra volontà tanto che continuiamo invece a lavorare nel tentativo di trovare soluzioni alternative perché la raccolta della frazione organica dei rifiuti possa tornare ad essere irregolare. L'assessorato regionale all'energia con il quale siamo in costante contatto ricordano il sindaco e l'assessore nel corso di un recente incontro ha fatto presente che a partire dalla prossima settimana di dicembre riaprirà il polo tecnologico di Castelvetrano con l'avvio di una campagna mobile che per almeno un anno consentirà di garantire il conferimento dell'umido. Ancora una volta siamo purtroppo costretti a chiedere ai cittadini di non esporre l'umido nelle prossime giornate continuano Rizzo e Abate chiediamo la collaborazione di tutti per un problema che, lo ricordiamo, riguarda mezza Sicilia e non solo la nostra città. Grazie a tutti.